Bella questa cartolina di Bassano del Grappa, il Brenta, le montagne, il ponte, il ponte appena restaurato è già scarabocchiato, ma questo si sapeva, questi sono i disegni che alcuni ragazzi in vena di una bravata hanno fatto durante una serata qualche tempo fa. Si sono poi presentati dopo i servizi di Rete Veneta, sono andati al comune, hanno detto siamo stati noi, si sono già incontrati con l'amministrazione e lunedì partiranno i lavori di ripristino, costeranno circa 1000 euro, bisognerà pulire tutto, poi tutto tornerà come prima, pace fatta dite voi, sì ma attenzione perché noi di Rete Veneta abbiamo scoperto un dettaglio, venite con noi. Un bel ponte sistemato, restaurato, ripulito, come quello di Bassano che è diventato di nuovo il biglietto da visita della città in tutto il mondo, può permettersi dopo il restauro di portarsi appresso dei graffiti del genere? Non pensiamo che risalgano a più di qualche anno fa, perché allora non pulirli quando ce n'è stata l'occasione? Perché non ripristinare il ponte esattamente come era una volta quando ce n'è stata l'occasione? E cosa dire di questa colonna appena restaurata e che riporta ancora tutti i graffi, i graffiti, le incisioni che riportava prima del restauro? Chiediamo nuovamente a chi di dovere se non ci fosse stata l'occasione di tirarla lucido. Con il restauro del ponte sono stati spesi milioni di euro, si poteva spendere forse qualche decina di euro per dare un po' di stucco su questi graffiti, su queste incisioni, prima di concludere i lavori e magari chi ha passato dei giorni a celebrare, festeggiare, farsi dei selfie qui sul Ponte Vecchio avrebbe potuto pensare anche a questo. Grazie. Grazie.